Abbiamo parlato la settimana scorsa di Portogallo, abbiamo fatto la storia ceramica del Portogallo, la ceramica ovviamente industriale, io ritornerei anche questa settimana sull'argomento, come sempre con l'ingegner Cristiano Canotti, per vedere anche il mercato interno, cioè come si è spento negli ultimi anni. Guarda, il Portogallo è lungo e stretto, mi scomiglia un po' all'Italia, quindi col fatto che è molto distante da Castellion, per paradosso, nella parte ovest, non la costa perché sull'Atlantico appunto c'è Portogallo, a parte la Corugna, i portoghieri sono molto forti nel mercato spagnolo, ovviamente perché è talmente lontano dal punto di vista logistico da Castellion, sono più di mille chilometri, che in realtà il mercato non si chiudeva nella solo ex Lusitania. I fattori trainati quali sono stati? Il paese è polarizzato da una capitale magnifica che è Lisbona, che ha quasi 3 milioni di abitanti, e Porto che è la capitale economica, se Lisbona è Roma, Porto è Milano, proprio con questa analogia. Però a Porto c'è anche il vino Porto, oltre che l'industria, e quindi grandi relazioni commerciali, soprattutto con gli inglesi. questa polarizzazione ha avuto l'ulteriore sbocco quando c'è stato il boom dell'Algarve, che se vogliamo un po' la costa del Sol, come l'Andalusia, dove c'è stata molte speculazioni edilizie, dove molti stranieri sono venuti a prendere casa o venire in vacanza. Lì ha senso, il nord è molto piovoso, e quindi la costa atlantica del Portogallo non è accessibile dal punto di vista del turismo come lo intendiamo noi. Ecco, il vero problema dei portoghesi è che loro hanno una tradizione ceramica, quella della Zuleca, che è vecchissima, molto più vecchia degli spagnoli, fanno un po' fatica a liberarsene, quindi hanno questo gusto per il rivestimento, questo gusto per il decoro, sul pavimento hanno sempre fatto molta fatica. Anche se per paradosso, importando storicamente da sempre del caolino del Devon, sono diventati dei bravissimi produttori di sanitario e di vasellame, sono bravissimi e sono, diciamo così, la risposta europea alla porcellana tedesca. Ma relativamente ai costi di produzione, il costo dell'energia... Sono ancora favorevoli, sono ancora favorevoli. Hanno dell'idroelettrico, perché c'è una catena montuosa che li aiuta parecchio, il gas, sì, è un po' costoso, però il gasdotto algerino gli ha semplificato molto la vita, il costo del personale aveva avuto una fiammata ma è sceso e soprattutto con i provvedimenti politici oggi il Portogallo dopo la Grecia è il paese che fa più dumping salariale, cioè alle persone che lavorano in lavori poco qualificati si offre veramente molto poco. Questo fa un po' macelleria sociale, soprattutto stride anche sul fatto che c'è stato un momento in cui queste aziende, un po' perché entrate nel contesto internazionale, perché ci sono ben tre aziende di proprietà italiana e altre due o tre hanno intessuto con gli italiani delle relazioni commerciali che potevano anche sfociare in rapporti societari. Diciamo però che c'è un grande produttore di porcellanato tecnico, che è la Revigress, c'è un eccellente produttore di mosaico, che è la Sinca, che è oltretutto partecipata da Ricchetti ed è storicamente un gruppo da una decina di milioni di metri quadrati. La Panaria, che ne ha acquistate due, l'ex Marona Grasse diventata Margrasse e la nuova Grasse diventata Love Tiles. Poi ci sono una serie di aziende interessantissime, la Grasse Art, la Dominò, la Recher. Tutte queste aziende hanno però un problema, che hanno una massa critica che oggi è diventata un pochino né carne né pesce. Producono tra i 4 e i 5 milioni e quindi è una massa che non consente a loro di essere particolarmente competitive proprio per efficienze industriali. Quindi quando i fattori di costo non sono più così vantaggiosi, questa misura d'uomo che le rendiva così facilmente gestibili, oggi forse è il loro limite. E hanno difficoltà ad aggregarsi, immagino. È tantissima. È uno dei motivi per cui hanno venduto agli italiani è perché c'è una rivalità feroce, anche se non abitano assieme, perché sono ben distanti, ma è una rivalità molto cerebrale, poco di petto e fa sì che abbiano cercato soluzioni come quelle aziende che poi sono state vendute purtroppo al Banco Espirito Santo, il famoso banco che ha fatto un crack epocale quest'anno tipo il nostro Monte Paschi e che allora è stata venduta ad un gruppo angolano che ha i soldi del petrolio. Ma le aziende ceramiche saranno immagino tenute in seria considerazione dal governo? Sì, perché era un settore trainante, soprattutto... Che aiuti stanno dando? Pochi. Sinceramente pochi ed è uno dei motivi per cui sono stati presi molto da questo scoramento. Quando si va a Lisbona e si parla del fado, fa parte dell'anima portoghese. Il coraggio, hanno molto orgoglio, ma sono molto facili alla depressione. Che futuro ceramico possiamo prospettare per il portoghese? Io credo che debbano sprovincializzarsi e se non si aggregano, perché c'è qualche leader che ne mette assieme più di una, inevitabilmente costette rivolgersi agli imprenditori spagnoli con i quali però c'è stata una forte rivalità, hanno prodotto per degli spagnoli ma non hanno venduto e gli unici che hanno un'attitudine espansiva siamo noi italiani, perché in passato ci sono nati dei nord europei, ci sono nati dei belgi, degli olandesi, dei francesi, che hanno comprato molto prodotto ma non hanno mai neanche lontanamente pensato di andare a comprare un'azienda.